Sera. Buonasera. Caspite di nuovo l'uomo nero. Sono venuto... Sono venuto a declamarvi alcune delle mie poesie più rinascite. Anche oggi? Sì. Come mai scegli proprio questo posto, scusi? Eravate gli undici aperti a questo. Vabbè, allora lei, visto che siamo gli undici aperti, scide lì con queste mattonate. Sì. Grazie, lei è veramente gentilissima, non ce la scordiamo. Per piacere. Vorrei farvi ascoltare... Ma si presenti, scusi, suo nome? Sono Mino Pausa. Mino Pausa. Per piacere. Vorrei farvi ascoltare dalla mia prima raccolta di poesie, dal titolo... Nel trigesimo del nostro amore. Una poesia che si intitola... disabitato. Urg, che titolo! Scusi, ma perché ci prendono queste crisi di risa a lei ogni volta che fa... è un lamento interiore. Coraggio, legga questa sua poesia, lamento interiore. Adesso le do un lamento cervicale, le faccio vedere io. Coraggio, ci sbrighi. Per piacere. Quando tu mi hai lasciato... anch'io me ne sono andato. Veramente profondo, guardi, questa lirica. Bene, vorrei concludere oggi. Perché ci sentiamo anche domani, ci sentiamo? Sì, vengo. Ma guardi che non è necessario, noi stiamo bene così come stiamo. E noi... Mi piacere. Scusi, ha ragione, scusi. Vorrei concludere oggi con una delle mie poesie veramente più riuscite. Figuriamoci. Ha possesso un titolo... Le tue ultime parole. Caspite, che titolo! Mi piacere, scusi. Dicesti... solo la morte potrà dividerci. Ci siamo divisi. Caspite, caspite! Vado in retro, per piacere, vado in retro, torni da dove è venuto. Buonasera, ci vediamo domani. E speriamo di no, speriamo. Anzi, speriamo di sì, visto il soggetto. Pubblicità, amici, pubblicità. Date al dorsi, che soggetto è pericoloso, eh? Caspite, caspite, vieni playboy.